Stiamo cercando di rubare le mie cose? Beh non è molto carino! In una simile circostanza ti butterai fuori senza pensarci! Sei terribilmente fuori moda e comunque la festa non è nemmeno... Festa? Non sono qui per la tua festa! Sono qui per la gemma! Oh! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! Bene bene ma tu sei viva! Non sei affatto morta! Sei in carne e ossa! Carne, ossa e... E va bene me l'hai proprio fatta! Sei arrivata qui dopo tutto sarebbe scortese mandarti via non è così? Hai anche portato un amichetto! Dea mettimi giù! Te l'ho detto! Non sono qui per la tua stupida festa! Ora se potessi... Il tuo entusiasmo mi ispira sai? C'è una piccola testa da pagare per accedere alla mia festa? La domanda rimane... Ti piacerebbe essere pugnalata? Strangolata? Scozzata? Oh! Che ne dici del veleno? Io lo ritengo il migliore! Di che stai parlando? Non ti aspetterei mica di unirti a noi in questo modo vero? Con quel fastidioso corpo mortale aggrappato a te come una sanguisuga! No 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 no! Non accadrà mai! Scegli pure! E lo farò gratuitamente! E poi la festa potrà iniziare! Ok che ne dici di nulla? Nulla delle precedenti? Nessuna? Che magnifica scelta! Ehi! Starà la sorte! Ehi!